Il Riviera Marmi in tenuta giallorossa, siamo già al secondo minuto, attenzione Messina sulla destra per Abate, ancora Abate si libera in mezzo per Messina, troppo lungo, non fa il taglio, ha un po' di campo Cosimo Panepinto, viene attaccato da D'Amico, entra Panepinto in aria, attenzione in mezzo, deviato in calcio d'angolo. Un solo uomo in barriera, attenzione in mezzo il tiro, pericoloso di sette case, devi pericoloso il Riviera Marmi, in mezzo, batti e ribatti, ancora il tiro fuori di Claudio Lamia. Cino Lauro, ancora in avanti, Polito, non è in fuorigioco, attenzione, Polito, Polito, il tiro, rete, 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 Fabio Messina. Sette case, esce, attenzione, a vuoto, Ardizzone lo perde, recupera ancora, attenzione, il tiro, miracolo sempre vivo. Fuorigioco, Galeotto in mezzo, di petto, il tiro, miracolo ancora di Giacalone, su Polito. Se la sbrogliano bene sulla destra, mette in mezzo Panepinto, attenzione, Polito, di testa, Claudio Lamia, il tiro, alto. Fischia l'arbitro, parte Polito, mette in mezzo, colpo di testa di Galeotto, non trova ancora nessun compagno, totalmente in porta. Attenzione, parte sette case, il tiro, alto. Attenzione, adesso, malinteso, tra cui io è sempre vivo, ancora, miracolo ancora, di sempre vivo, Polito. Direttamente in porta, il tiro, di pugno. 11 del Riviera Marmi, attenzione, il tiro, alto. L'esperienza contro la vivacità. Panepinto, ancora, Tummiolo, tiro alto. L'avversario diretto, Polito, entra in area, Mineo, non riesce, Panepinto, attenzione, il tiro, para. Giacalone. Finisce Campofranco, 1, Riviera Marmi, 0, una gara, appassionante. Mister, oggi è stata dura. Sì, sì, oggi abbiamo incontrato un'ottima squadra, secondo me, vista Castel Termini, una delle migliori. Squadra che non per niente si trovava a quattro punti da noi, veniva da quattro vittore consecutive, è in finale di Coppa, quindi buona individualità, un buon collettivo, ben messo in campo, e quindi, diciamo che, insomma, è stata sofferta. Forse per le occasioni, abbiamo avuto qualche occasione in più noi, però, molto giocata a centro campo, insomma, forse da parte nostra c'era qualche ragazzo che magari non era fisicamente a posto, però non stava bene, quindi, rispetto ad altre prestazioni siamo andati un po', eravamo un po' sotto tono, però, oggi ci siamo comportati da squadra. Abbiamo capito, sin dall'inizio, che dovevamo soffrire, abbiamo sofferto, abbiamo cercato di fare quello che potevamo, abbiamo giocato più con la testa, perché le gambe un po' c'erano, siamo stati meno brillanti rispetto al solito, perché, insomma, noi facciamo, cerchiamo di giocare molto sull'intensità, sulla velocità, e quindi oggi non c'è riuscita, però, comunque, dall'altra volta c'era un'ottima squadra, quindi, ci può stare. Complimenti alla Riviera Marmi. Un Riviera Marmi, una delle migliori squadre viste contro il Campofranco, forse ha da recriminare qualcosa? Ma, intanto, bisogna dire che oggi si è onorato lo sport, e soprattutto il calcio, perché si è visto due squadre che giocavano al calcio vero. Voglio dire, questo già, in queste categorie, che si trovi questo tipo di mentalità, vuol dire che sia gli allenatori sono gente veramente in gamba e riescono a dare un'impronta bellissima del calcio, che è quello di giocare sempre, di non buttare mai la palla e cercare sempre di costruire. Noi sicuramente siamo venuti qua, perché sapevamo che era uno scontro molto importante per zona playoff, voglio dire, ancora mancano 10 partite, però, voglio dire, abbiamo dato il massimo, stiamo facendo bene, siamo molto contenti, voglio dire, che poi ci sono molti ragazzi, però, ovviamente, abbiamo raggiunto la finale di Coppa Italia, voglio dire, non siamo una squadra che si fa rispettare, quindi, però, voglio dire, niente da dire anche al Campofranco che è un'ottima squadra.